Campane di San Marco Campane di San Marco Campane di San Marco semplice, a mezzogiorno, stile umbro. Il quadro doveva suonare sarebbe stato molto meglio. Questo è un pochetto il riassunto della storia, il resto lo troverete nella descrizione. Perdonate un po' la strada, però se è un traffico tremendo. Buon ascolto! 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 Buon ascolto!